Dal momento che ho concluso la mia presentazione sulle mappe in sé, perché alla fine non sono un docente, quindi un esperto, ma uno che ha sperimentato queste attività sul territorio, quindi una cosa che magari tra dieci anni sarà un po' più corposa, però da quello che vi ho fatto vedere probabilmente avete un po' inteso l'approccio che è abbastanza diretto, molto semplice, ma non può essere diversamente, perché il ritorno di informazioni deve essere molto agevolato, devi mettere le persone nella condizione di sentirsi a proprio agio mentre ti raccontano le cose, però le devi simulare per poterle poi fare uscire informazioni diverse, quando si parla di territorio si parla non soltanto di quello che di bello c'è da promuovere all'esterno, ma anche di alcune problematiche, ecco perché poi alla fine diventano poi strumenti che possono avere risvolti o utilizzi anche in altri campi, quindi una cosa molto interessante, ma di per sé è una cosa che non deve raggiungere un livello professionale o tecnicamente elevato, però sono esperienze che poi restano sul territorio, da questa e dalla redazione della mappa di comunità, il gruppo che l'ha costruita poi va avanti con altre attività, rimane sul territorio, continua con tutta una serie di iniziative, abbiamo visto qualcosa prima, si interfaccia con le scuole per la trasmissione dei saperi, fa attività sul territorio di sensibilizzazione, alle volte si pone anche come gruppo di denuncia sul territorio, perché? Perché finalmente ha potuto prendere contezza, cioè le mappe di comunità fondamentalmente si pongono questo come obiettivo, ricreare, riappropriarsi della coscienza del proprio luogo, fondamentalmente è un processo culturale ed educativo, poi tutto quello che viene fuori è il frutto di questa riflessione e quindi poi dopo le gente rimane insieme si costituisce in ecomuseo, non è detto che l'ecomuseo debba nascere primo, può anche darsi che questa cosa, questa esperienza che viene dal basso, questa esigenza, porti poi alla costituzione di un'associazione che gestisce l'ecomuseo, l'ecomuseo che cos'è? Altro non è che è un museo diffuso sul territorio, l'ecomuseo è di tutti ma non è di nessuno fondamentalmente, è un'entità astratta, non è un contenitore fisico come il museo dove ci sono i reperti, le collezioni d'arte, l'ecomuseo è fuori, il paesaggio è tutto, le relazioni tra le persone, le tradizioni, tutto sta nel sensibilizzare, coinvolgere, rendere responsabili i cittadini che sono i primi promotori del racconto che si fa verso l'esterno. Ecco perché poi l'ecomuseo può nascere o no, dicevo, in alcune esperienze abbiamo soltanto fatto la mappa di comunità che rimane come uno fresco ma non c'è stata la spinta giusta affinché le persone poi rimanessero unite, cioè non è così automatico. Poi è chiaro che essendo nata come esperienza, dicevo, all'interno delle mappe di comunità sembra quasi non naturale che poi il risultato debba essere quello dello stare insieme e conformarsi come ecomuseo. Ciò significa anche entrare dentro a dei circuiti di visibilità particolari, come dicevo prima, la regione oltre a riconoscere queste esperienze nel piano paesaggistico ha pure fatto una legge regionale, quindi quando fai una legge regionale si presuppone che ci sia un interesse e anche una spinta affinché queste attività si moltiplichino sul territorio. E non fosse altro perché gli ecomusei sono anche riconosciuti come osservatori sul paesaggio, quindi quasi sentinelle sul paesaggio stesso affinché si diano indicazioni anche alle amministrazioni comunali su come gestire il territorio, organizzarle. Quindi è importante che dalla mappa di comunità ci sia anche un risvolto, una continuità, altrimenti avremmo fatto soltanto un esercizio di pura rappresentazione, un modo per stare insieme. Ma diciamo che più delle volte i risultati sono andati in questa direzione, sono rare le esperienze in cui non si è fatto un buco nell'acqua, per dire. Visibilità perché entri in collegamento anche con altre esperienze ecomuseali, cioè le esperienze ecomuseali realizzate in Puglia sono ancora all'anno, non dico zero, ma quasi. Cioè ci sono esperienze in Nord Italia che veramente poi sono esperienze pilota che costruiscono, riescono a costruire piccole economie sul territorio. Pensiamo che l'ecomuseo sollecita e valorizza anche ad esempio delle produzioni locali che sono andate perdute nel tempo, per cui l'ecomuseo diventa quasi un marchio di qualità, riprise in produzioni, agevola, quindi si crea quella piccola economia. Quelle esperienze di cui tanto si parla, noi cibi slow food, ci sono esperienze soprattutto in Piemonte che vanno in questa direzione, quindi riescono anche a creare sviluppo più concreto. Ecco, in Puglia è già tanto che siamo arrivati a sviluppare la comunità, il senso di cui è un punto di partenza. Stiamo parlando in Piemonte, in Trentino, dove le comunità sono già un pochettino più smalizziate, questa identificazione c'è già, questa appartenenza, quindi possono anche permettersi di portare avanti il vitigno particolare nelle langhe, piuttosto che altre esperienze. Però la prospettiva può essere anche quella, anche il fatto di mettere, porre l'attenzione su alcune tipologie costruttive del territorio, ad esempio, dalle nostre parti sì, abbiamo i trulli, ma purtroppo non abbiamo più coloro che li costruiscono, ma neanche quelli che magari si interessano di manutenerli o di ripristinare, vadano in degrado, quindi una linea potrebbe essere anche quella, l'ecomusee che sponsorizza corsi di formazione, piuttosto che scuole proprio, in cui si recuperano delle maestranze. La prospettiva potrebbe essere quella, prima ancora di pensare a altri tipi di sviluppo economico. Diciamo che in Puglia noi siamo importanti e riconosciuti a livello nazionale per tutta quell'esperienza che abbiamo fatto in effetti di lettura del paesaggio, ma in altre regioni non si sono prodotte così tante mappe come le abbiamo prodotte qui in Puglia, proprio per la spinta che ci ha dato la regione in quel contesto del piano paesaggistico. Diciamo che siamo all'avanguardia per questo, per aver sperimentato modalità sempre diverse e per aver prodotto anche cose interessanti. Ci sono un po' anche da retaggio a Toscano, in quanto chi l'ha regato? Sì, sì, vabbè, può darsi, però insomma abbiamo sollevato le persone, i risultati sono molto apprezzati. Considerate che nel network di Mondi Locali, questo network che raccoglie tutti gli ecomusei italiani, ci sono diversi settori, allora noi siamo in prima linea proprio in questo settore. Gli ecomusei, avevo parlato prima di come appunto nascono, di come possono nascere, in realtà nascono per un sentire delle popolazioni, se non c'è una popolazione, almeno un nucleo all'interno della popolazione che sente l'esigenza di prendersi cura del territorio, di valorizzare alcuni elementi, l'esigenza di poter preservare e tramandare alle future generazioni, non può avvenire un elemento esterno e dire nasce qui l'ecomuseo, nasce qui l'esperienza. È un processo che o nasce dal basso per un'esigenza oppure non nasce, punto. Ma l'amministrazione dei comuni in cui sono nati ecomusei è anche quelli più… È proprio intervista. Il rapporto delle amministrazioni con gli ecomusei com'è attualmente? Allora, devo essere sincero, anche se ci stanno registrando, diciamo che il primo approccio è stato collaborativo, molto entusiasmato, poi dipende anche dalle amministrazioni, perché ci sono delle amministrazioni in Puglia che sono veramente lungimiranti e credono anche nei processi di democrazia partecipativa, di coinvolgimento delle popolazioni, per cui è tutta un'altra filosofia di amministrazione. Ce ne sono poche, la verità. Però, diciamo, un primo entusiasmo si è creato proprio sulla scia di questo protocollo di spesa che le amministrazioni hanno firmato con l'assessore Barbanente nel piano paesaggistico, per cui era elemento anche di valore, un'amministrazione si mette a disposizione per sperimentare nel proprio luogo queste attività. Dopodiché il problema di queste attività è che si devono sostenere anche, non solo sulla volontà delle persone, ma anche con un minimo di contributi. Allora, le amministrazioni non hanno, se dovessero, diciamo, agevolare le associazioni, non so quanto, ce ne sono tantissime sul territorio, quindi non si può dire a quella sì, a quella no. E quindi o si devono autosostenere questi ecomusei, il che diventa molto difficile, oppure per fortuna c'è questa legge regionale che di tanto in tanto destina dei contributi, ma il rapporto con l'amministrazione è sempre, diciamo, ovviamente non ti ostacola, ti ostacola soltanto nel momento in cui l'ecomuseo, la associazione dell'ecomuseo comincia a denunciare cose, sai, nei piccoli paesi è molto facile, i movimenti di opinioni vengono subito azzittiti, no, perché poi si intercettano persone, bisogna, sai, queto vivere e so quanto, però la forza propulsiva dell'ecomuseo dovrebbe essere proprio questa. Siccome è un'associazione, un'istituzione che preserva il territorio, ostacola ovviamente sul frutto di ragionamenti tutto quello che va in una direzione opposta. Diciamo che questi scontri non ci sono mai stati al momento, però a un certo punto le amministrazioni si disinteressano, diciamo così, c'è una, l'ecomuseo va per, cammina con le proprie forze, chiede di tanto in tanto le collaborazioni, però è tutto a esclusivo vantaggio delle amministrazioni che poi si fanno, promotori assieme, diciamo non c'è uno scambio all'inverso, sono le associazioni che devono sempre chiedere all'amministrazione il permesso, l'autorizzazione, il coinvolgimento e devo dire che c'è sempre stato un rapporto cordiale, però secondo me le amministrazioni dovrebbero essere più, come dire, più vicine o crederci di più, perché poi è un sistema che lavora, non è un'associazione che avvantaggi, ma è tutto un sistema territoriale che deve essere agevolato, però ripeto, ci sono delle amministrazioni o dei singoli anche assessori all'interno delle amministrazioni che ci tengono tantissimo, molte di queste esperienze abbiamo detto nascono perché per un protocollo d'intesa, all'inizio c'è stata la presenza dell'amministrazione e quindi è stato molto facile da un certo punto di vista avvicinare le persone, sai quando una cosa è istituzionale, quando la fa l'amministrazione o quando è parte nell'amministrazione la gente si avvicina, perché è sinonimo di serietà, di cosa fatta per bene, o anche può essere un motivo esclaudente, perché magari c'è tutta un'altra schiera di abitanti, di cittadini che non si riconoscono in quell'amministrazione e quindi ti boicottano in qualche modo, quindi sembra un'arma dopo taglio, però la presenza di un amministratore nel laboratorio può attirare molte più persone, perché la gente si sente è una cosa più ufficiale, è una cosa più seria da questo punto di vista. Altre domande? Perché così magari mi viene più facile ricordarmi alcune cose. diciamo che le cose sicuramente stanno andando, ci sono anche pubblicazioni che stanno pubblicizzando il lavoro svolto in questi anni, quindi è un processo che secondo me è inarrestabile, nel senso che magari si possono soltanto consolidare delle esperienze comuseali, quelle più produttive, anche se secondo me la legge regionale ha suscitato anche interesse da parte di altre associazioni che vorrebbero essere riconosciute come comusei di interesse regionale, perché poi devono entrare nella partizione di eventuali contributi, il che ha significato che anche associazioni X che magari sul territorio fanno solo promozione del territorio piuttosto che altre, c'è una corsa, però secondo me bisognerebbe, ed è già stato fatto dalla Commissione, poi che ha valutato queste domande per il riconoscimento, una lezione effettivamente per capire che tutti poi fanno il comuseo. Diciamo che la differenza non è sostanziale tra una prologo e un comuseo, ma il comuseo fa anche altro, cioè la prologo si ferma sulla promozione del territorio, tra il comuseo fa anche altro, quindi secondo me la legge regionale darà una spinta molto significativa all'istituzione di altri, però ci si focalizzi sulle attività che stanno producendo qualcosa sul territorio, in termini proprio di coscienza e poi magari anche dopo di sviluppo economico. Diversamente ci riempiremo di ecomusei, ma insomma sarà soltanto l'etichetta, ma non… Ecco, se dovessi pensare alle realtà, nel Salento ce ne sono due o tre che stanno continuando su magari una decina ufficiali, due o tre sono quelle più dinamiche. Le ecomusei della Valle d'Itria invece lavorano molto bene, non fosse altro perché forse sono anche composte da giovani che hanno un'idea anche del territorio diversa, è molto più spostata verso il futuro, costruire qualcosa che più rientro, mentre invece nel Salento le ecomusei sono composte da persone un po' più adulte, quindi anche la capacità di immaginare, di proporre qualcosa di alternativa un po' più frenata, ma non lo dico in maniera negativa, perché comunque nell'esperienza che sto seguendo, 30-40 persone così dinamiche, così disponibili, ci metto a trovarle, perché poi alla fine i giovani sono anche un po' più frenati, sfuggenti, però capite che comunque l'iniziativa è diversa, un giovane ha delle cose un po' più fresche, anche la mappa interattiva che vi ho fatto vedere è molto molto semplice, magari poteva diventare qualcosa, un'applicazione sullo smartphone, qualcosa di diverso, ma insomma dobbiamo limitarci al lavoro e anche agli interlocutori che abbiamo di fronte, magari in un contesto, e sicuramente è stato fatto nelle ecomusei di Valle d'Itria, già utilizzano strumenti più all'avanguardia, perché la componente è più fresca. Il numero di copie in maniera tale che potesse essere distribuito ai cittadini fondamentalmente, perché insomma il frutto del lavoro non deve rimanere chiuso in un cassetto, ma l'abbiamo distribuito agli abitanti del posto e quindi abbiamo finito dalla cosa. Già è stato uno sforzo mettere tutti i pdf sfogliabili, anche diciamo molto pesanti, tutto quanto sul sito anche del SESA, quindi lo puoi scaricare e consultare qui là sopra, però effettivamente andrebbe usufruito anche diversamente, però quello è il limite quando non hai molte risorse, che non vuol dire niente, ti puoi anche scogitare qualcosa, però tutte le cose più belle nascono anche quando c'è un appello che facciamo a chi deve destinare un po' di denaro, perché effettivamente ci puoi mettere tutto l'impegno che vuoi, però io rimango sempre stupito dai prodotti, anche editoriali, che fanno in altri contesti, ma insomma se vedete quanti enti sono coinvolti, vi rendete conto che soltanto dai loghi, comunità montane, regione, provincia, consorsi, c'è tutto un sistema che sponsorizza anche le pubblicazioni e qui invece bisogna fare conti, se non ci rimetti di tuo, tu puoi chiedere alla gente soltanto di dimetterci il tempo, la volontà, la voglia, però il resto devi… però insomma io sono contento anche di quel lavoro fatto, anche se è un po' graficamente o non è molto accattivante, però con i potenti mezzi che abbiamo a disposizione è già qualcosa, però ripeto, non è tanto poi la resa grafica, ma quanto il contenuto, il messaggio che tu… sì, il messaggio che stai lanciando, io sono molto contento di aver attivato con questi ecomusei delle forme un po' più spinte di protagonismo nella comunità, perché se prima erano un po' tutti addormentati, adesso ci sono 30-40 persone che insomma in qualche modo ti… con le attività che svolgono nel tempo, poi diventano… fanno anche un po' paura dopo un po', ecco, il rapporto con le amministrazioni, no? Cioè è un'arma a doppio taglio, se avvantaggi queste forme di partecipazione non sai poi le direzioni che prendono, per cui o le… non dico le padroneggi, ma le sai, no? Ti sai interfacciare o se no poi diventano anche un pericolo, pericoli non ce ne sono, perché poi abbiamo gente abbastanza mite, molto collaborativa, però potrebbe diventarlo, cioè… ma è quello che si chiede poi all'Egomuseo, non di ratificare scelte prese da altre, è proprio l'elemento del protagonista, della cittadinanza attiva che deve… che nasce in queste… cosa? Certo, dicevo prima, i beni non soltanto quelli di eccellenza, ho bisogno anche di capire quali sono i beni che attualmente hanno significato, possono diventare importanti per la popolazione, non è mica detto che la chiesa del Cinquecento sia più valida di una piazzetta di periferia, o di… noi abbiamo bisogno di recuperare un passato, un uso del territorio che abbiamo perso, non fosse altro perché magari… per ricordarci che lì succedeva qualcosa, ad esempio quando fino a pochi decenni fa c'era l'uso di andare in piazza per sprocacciarsi il lavoro, no? Cioè la sera prima si andava lì per trovare il lavoro e ci sono delle piazze che magari sono scomparsi degli slarghi nella città dove la gente si ritrovava e poi la dicitura molto bella che dice, ah quando non trovivi il lavoro è rimasto sotto all'urmo, no? Cioè all'albero di Olmo significava che sei rimasto al palo all'albero, una cosa che magari a raccontarla noi perché ce l'hanno raccontato i nonni, ma pensiamo a cosa potrebbe succedere tra qualche anno quando non ci saranno più i nonni, allora recuperiamo qualche cosa, del nostro territorio, ciò significa anche avere delle, come dire, dell'input per quando poi si progetta, si organizza un territorio, perché significa che se in quel posto succedono e sono successe delle cose, tu devi andare con le pinze, non puoi andare così, quando uno si mette sulle carte fa due linee fregandosi di quello che c'è sotto, diciamo sono molteplici interessanti poi gli svolti. Come il rapporto con i cittadini che invece non fanno parte del gruppo degli Ecomusei? che è quello che è interessante. Allora, secondo me, i membri dell'Ecomuseo per fortuna sono gente che in qualche modo ha trovato sfogo nell'Ecomuseo, erano persone che più o meno in qualche modo hanno sempre contribuito a fare qualcosa sul territorio, che però l'hanno fatto magari in maniera molto individuale o piccoli gruppi. Allora, nell'Ecomuseo possono stare insieme. Siccome sono comunque personaggi di una certa levatura, anche molto, come dire, attraenti, comunque dei personaggi sul territorio, allora molte volte riescono a portare dentro qualcun altro. Prima un po' lentamente, però poi dopo insomma fanno primo titolo. Quindi molto sta nella capacità del personaggio di attirare dentro a questa realtà altre persone. Poi dipende dalle sensibilità, cioè fare le escursioni sul territorio e andare a raccogliere le erbe selvatiche, non è che piace a tutti, voglio dire, però voglio dire il rapporto è di osservazione. È chiaro che non puoi far innamorare tutti, però la gente quando facciamo le giornate del paesaggio o comunque facciamo eventi pubblici partecipa. Alle volte rimango però stupito del fatto che, ah, c'è l'Ecomuseo? Ma che cosa fa? Cioè, dopo 5-6 anni ancora non siamo riusciti a far capire chi siamo e cosa facciamo, però è gente che non si vuole informare, nel senso che volutamente non vuole vedere quello che sta succedendo sul territorio, è presa da altre passioni. Però il rapporto c'è, non è così altro perché siamo visibili delle cose che si fanno, un po' per volta, non bisogna fare pretende, questi sono processi lunghi, cioè è gente che poi si deve abituare un pochettino alla volta, sai non stiamo parlando di calcio dove vengono in massa, queste sono cose che un po' alla volta, partendo anche dai ragazzi stessi, le esperienze che abbiamo fatto nelle scuole sono state molto interessanti e profigue. Quando abbiamo portato in classe il cittadino che ti fa vedere come si innesta, si intrecciano i canestri, le cose, allora, nell'estate successiva a questo progetto ci sono stati due o tre ragazzi che hanno individuato questo signore in piazza, gli si sono avvicinati e hanno chiesto proprio esplicitamente, ragazzi di 10-11 anni, esplicitamente di imparare a intrecciare le cose, cioè secondo me abbiamo raggiunto l'obiettivo, abbiamo riconnesso le generazioni, adesso quell'anziano ha un ruolo, non è più il vecchietto che uno prende, i ragazzi di oggi sono un pochettino anche maleducati nei confronti degli anziani, quindi hanno riconosciuto un ruolo, una capacità e adesso c'è questo scambio anche molto produttivo, quindi piano piano, è chiaro che stiamo parlando di due o tre ragazzi su una classe di 20, però quei due o tre ragazzi ti fanno ben sperare che c'è ancora una sensibilità, un interesse verso alcune tematiche, è interessante, magari potranno diventare i maestri del futuro, perché c'è una grande ansia, anzi una grande preoccupazione da parte delle persone più adulte di noi di lasciare comunque una traccia, di lasciare comunque un'esperienza e se non si recuperano antichi mestieri, antiche manovalanze, noi perderemo un patrimonio che non è soltanto il trullo, l'edificio storico, è proprio qualcosa di immateriale che non riusciremo più a recuperare, secondo me è lì che bisogna indirizzarsi di più, perché poi la chiesa, il palazzo ci sono, il restauratore, l'architetto, c'è chi se ne occupa, ma le cose più informate, i materiali, no, quelle le perderemo inevitabilmente, quella sapienza diffusa che stiamo perdendo, perché l'abbiamo sempre considerato qualcosa di vecchio, legato al mondo contadino, quindi povero, tutta un'idea malsana, però mi fa ben sperare anche questo rinnovato interesse nei confronti del territorio, del paesaggio, anche dell'agricoltura, ci sono moltissime, nel Salento più che altro c'è un risveglio, molti ragazzi si avvicinano anche agli aspetti legati alla campagna, perché insomma probabilmente si sta rendendo conto che può essere, certo, e quindi l'ecomuseo in questo senso può fare anche da tramite, da collettore, tra un'esperienza passata, tra chi sa come lavorare la terra e questi altri ragazzi che invece sono alle prime armi. Infatti pensavo che la cosa bella forse dell'ecomuseo, un po' come concetto e come tutto, è proprio questo, cioè è una garanzia, diciamo totale, però perlomeno è un esercizio, un esperimento di garanzia su determinati argomenti che assolutamente non dobbiamo perdere, quindi può essere questo uno dei pretesti, sì al di là del monumento, del palazzo, del dolmen, va benissimo, però anche come forma di tradizione, quello che è il mondo contadino piuttosto che il mestiere, quindi la cosa bella dell'ecomuseo può essere anche questo, cioè è una sorta di protezione, salvaguardia e tutela di quelle che sono mestieri piuttosto che situazioni del passato che purtroppo si perdono, ma diciamo facendo quel tentativo dei tre ragazzetti, ma anche semplicemente uno, è già un risultato, quindi la cosa bella dell'ecomuseo è un po' come le mappe, nel senso che tu con la mappa disegnata o comunque con un'analisi del territorio, vabbè un po' come fa Google che mette giustamente l'anno del fotogramma, tu di lì riesci a capire ciò che è cambiato, ciò che c'era prima, quindi la cosa bella delle mappe, un po' come questo discorso è proprio quello, vedere poi negli anni che cosa è successo, ma soprattutto può essere una tutela, cioè lì prima c'era quello, adesso non c'è più. Ho dimenticato di dirvi, oltre a quel passaggio, dopo la mappa di comunità abbiamo fatto un passaggio tipico su le buone pratiche, le cattive pratiche sul territorio, abbiamo cercato di indicare all'amministrazione stessa attraverso delle schede, quali erano gli elementi del costruito che bisognava preservare piuttosto che altro. La cosa interessante è che abbiamo stilato quello che abbiamo chiamato il manifesto del paesaggio, c'è un testo, un documento stilato dall'ecomuseo, dopo aver analizzato, aver fatto la mappa di comunità, abbiamo formalizzato con parole quali sono gli elementi che vogliamo preservare, gli elementi, i valori identitari del posto. Questo documento è stato ratificato con una delibera di consiglio comunale, cioè messo agli atti come un documento a cui il consiglio comunale, l'amministrazione deve fare riferimento, perché una vasta fetta della popolazione ti ha indicato alcuni valori dai quali non si può retrocedere, per cui voglio dire qualcosa si incide, ecco stiamo parlando comunque di documenti che possono diventare anche carta straccia l'attimo dopo, però quando un'amministrazione si impegna comunque, fa propria delle cose, vuol dire che ci tiene in qualche modo, quindi poi diventa anche uno strumento in più. Sono piccoli passi, però siamo qui, in questo posto già un pochettino più avanzato, ma pensiamo a altri posti che piano piano si stanno cominciando a rimettere in moto, si guardano attorno, è importante quello che stiamo facendo, è proprio riattivare il protagonismo e la cittadinanza attiva, poi un passo alla volta, non è facile, perché insomma non siamo seducenti da questo punto di vista, però ci inseriamo anche in un contesto nuovo, di una maggiore attenzione nei confronti del paesaggio, del territorio, l'enogastronomia, quindi c'è tutto un settore che non fa. Forse quelle cose, cioè un conto è parlarne adesso, un conto forse è parlarne, averne parlato 15 anni fa, magari non c'erano questi presupposti, adesso forse un poco poco più fa. Sì, ma non è sempre così, ma non è sempre così. Diciamo sto parlando dello 0,0. Non è sempre così, però sono tentativi, ragazzi se vogliamo cambiare le cose bisogna partire anche da questo, perché esiste una mentalità molto vasta nei nostri tesitori, quindi il tentativo è quella di recuperarla anche attraverso queste pratiche. Allora, noi abbiamo parlato oggi di Ecomuseo come una sorta di recupero della tradizione, di conoscenze e di identità del territorio. Mi chiedevo qual è poi il trend, la visione nel futuro di queste conoscenze, come possono evolvere nel futuro e quali sono magari invece quegli elementi che ad esempio sono emersi dai meeting, dalla partecipazione attiva, che invece sono stati evidenziati come elementi negativi e che magari sui quali si vorrebbe invece cambiare. Dunque, partiamo dal presupposto che le mappe non sono una cosa che cristallizza la situazione all'oggi, dovrebbero essere qualcosa di completamente aggiornabile volta per volta e anche le conoscenze si evolvono, nel senso che è una cosa fatta cinque anni fa, dopo cinque anni, dopo dieci anni è completamente cambiata, non ha più valore tutto quanto. Quindi, diciamo, è auspicabile che questa indagine conoscitiva si venga fatta di volta in volta, anche per capire come si è trasformato il territorio, come si è trasformata la mentalità del posto, quindi è una cosa sempre in etinere. Sono dei passaggi che si dovrebbero fare a scadenze un po' periodiche. La conoscenza va sicuramente diffusa, nel senso che quanto più persone, anche coloro che non si sono gimentate nella lettura del paesaggio, conoscono elementi del proprio territorio, tanto più si sensibilizzano le persone. Quindi il tentativo è sempre quello di arrivare non solo a scuola, ma anche in altri ambiti. Dopodiché, il fatto delle negatività che comunque emergono, quello sta, insomma, alla forza anche propulsiva dell'ecomuseo. Quanto l'ecomuseo, diciamo, si può porre come elemento anche risolutivo? L'ecomuseo ha la capacità di prendere in gestione un pezzo di territorio degradato, farlo proprio, progettare qualcosa su quel territorio, proporre un'amministrazione, farsene carico. Anche questo potrebbe essere una soluzione, perché da un certo punto di vista uno dice, vabbè, seleziono qual è il problema, immagino come vorrei che si risolvesse, ma poi c'è una fase anche più attuativa, dove uno si rimbocca le maniche e dice, oh, ce ne facciamo carico noi. Questo in molte situazioni ecomuseali, insomma, dal nord è successo, nel senso che c'è uno spirito, diciamo, di intrapresa. Qui ci siamo fermati alla sottolineatura del problema e c'è sempre l'idea che ci debba essere qualcun altro a venire a toglierci le castagne dal fuoco. Manca questo elemento, diciamo, più, no, propositivo. Però sicuramente è da venire. La prospettiva dovrebbe essere quella, no? Non solo salvaguardie del territorio, sentinella del paesaggio, denuncia di quello che non va, ma anche cosa riesco a, come riesco a rendermi utile sul territorio. Quindi le negatività dovrebbero essere, no? Farsene carico anche noi, farsene carico anche l'ecomuseo in qualche modo, quindi riuscire a dare delle soluzioni proprio più concrete. Voi conoscerate alcune di queste esperienze, forse, no? Valle di Itria? Io ho studiato, ho fatto il Politecnico di Bari, con l'orientamento urbanistico e poi in attesa sono stato a Firenze, alla Pei, proprio di Magniarghi. E quindi comunque queste le conoscevo avendole studiate poi in tesi. E poi per curiosità ho dato un'occhiata, perché non lo faccio per lavoro, però insomma faccio. Che la passione è rimasta, quindi per curiosità ho dato un'occhiata al PBTR e quindi alcune di queste che hai mostrato tu oggi le avevo viste, tipo quella di San Mito dei Normani, le avevo viste. E niente, quindi un po', diciamo... Ma questo come è a livello di mappe, quindi di rappresentazione? Entra invece di attività ecomuseali? No, di attività ecomuseali? No. Non ho mai partecipato e ne ho mai visto. Forse anche questo è un limite. Forse siamo sul campo da almeno 5-6 anni, fattivamente, forse dal 2007-2008. Quindi sì, probabilmente il limite è stato quello di essersi molto ancorati a questa esperienza del piano paesaggistico, di essere rimasti quasi un'esperienza di nicchia che però non sta uscendo fuori da quel perimetro. Forse dovremmo un attimino essere più presenti. Sì, per questo ti ho chiesto prima, ma queste due vengono diffuse, diciamo, perché... Sì, da questo punto di vista ti do ragione. Vada, un limite forse degli ecomusei che gestisco è quello di non credere forse nella capacità della comunicazione. Quando facciamo le attività, non hanno la forma mentis di comunicare all'esterno con i comunicati stampo, di utilizzare internet, perché pensano che la cosa sia da fare per i pochi intimi del paese, punto. Ma insomma, il tentativo è quello di guardare anche oltre i propri confini. Cioè, una cosa potrebbe non avere senso anche per i tuoi abitanti, ma avere senso per gli abitanti del paese a fianco. Cioè, quando si fanno le passeggiate nel paesaggio, le ciclo passeggiate, queste attività di sensibilizzazione... Ma a parte le ecomusei, anche queste attività sono comunque attività di nicchia. Cioè, non c'è una grande... Beh, però si inseriscono in un trend anche, no? Se vuoi, voglio dire, il ciclo turista piuttosto che quello che va per sagre, c'è un fenomeno, no? Allora, perché non pubblicizzare una cosa che, no? C'è forse questa paura di uscire fuori allo scoperto, perché, ripeto, almeno per le esperienze che ho visto io, è gente comunque che ha sempre fatto queste cose, le ho sempre fatte in maniera del tutto gratuita, per cui anche l'elemento di fare economia, no? Attraverso l'ecomuseo, no? O di percepire qualcosa a fronte di un servizio dato, diventa una cosa che è fuori dai loro schemi. Come l'hanno sempre fatta, no? In maniera volontaristica, dire che io mi sto pagando perché ti sto organizzando una passeggiata, cosa che fanno ovunque, no? Cioè, tu per fare qualcosa va pure un euro, no? Per le spese la paghi. E la paghi anche con piagere, perché a fronte di quel lobolo hai un servizio, ieri fresco, hai la visita guidata, bla bla. Però c'è una forma proprio di chiusura verso tutto ciò che può essere moneta, forse ma anche di integralismo, no? Cioè, le persone sono talmente innamorate del proprio paese che difficilmente farebbero speculazione, anche perché poi si espondono magari all'inizio dei propri concittadini che mi dicono, ah, ti sto interessando perché devi fare denaro. Ma anche no. La risorsa economica aiuta a motivare, nel senso che un sistema museale ha bisogno di tecnologie, ha bisogno di formazione del personale esterno, di integrazione e... Certo. La risorsa economica non dovrebbe essere intesa come speculazione perché effettivamente comporta l'aggiornamento di professionisti che si occupano di questa cosa. Il sistema museale che ha necessità di... proprio l'aspetto tecnologico, anche, dico una banalità, anche il sistema di illuminazione all'interno non può essere quello degli anni Ottanta, ma deve essere portato, cioè deve avere un avanzamento. Quindi effettivamente questa chiusura dovrebbe essere un po'... cioè, seguendo delle realtà museali magari che riguardano più l'arte che segue qualche dono a... che ne so, qualche museo che sta nel nord, qualsiasi attività ludica, comporta comunque un costo alle classi, però c'è un aggiornamento per i docenti, c'è un convergimento delle famiglie ed è un contesto di formazione a 360 gradi per tutti. Quindi, come si diceva prima il collega appunto, dato che è una sorta di... come si diceva appunto, è un sistema di riserva in qualche modo, riserva di cultura, conservazione ma in senso laterale, perché come dicevamo anche nelle prime lezioni dovrebbe essere un atteggiamento di reazione, essere reattivi a determinate cose, quindi bisognerebbe fare ancora più squadra e far capire che risorsa economica non è speculazione ma anche riconoscimento professionale. Sì, allora, ti esposto questo problema perché, vedi per esempio, è molto fa la componente dell'ecomusio, se la componente è fatta di persone che da una vita hanno sempre fatto così, perché insomma hanno sempre fatto così, è difficile scardinare i concetti, farli capire che a fronte di un servizio, di un tuo impegno, quel lobolo che viene all'ecomusio può essere reinvestito anche poi in termini altri, no? Diversamente le esperienze dell'ecomusio della legge sono un pochettino più fresche, anche perché i ragazzi che ci lavorano dentro sono ragazzi come noi che hanno tutta, diciamo, la necessità, non dico di farsi pagare per il fastidio che si prendono, ma insomma di avere un riconoscimento, cioè c'è l'impegno, il tempo, tutto quanto, la professionalità, vuoi che non sia messa, no? Diciamo a sistema questa cosa, quindi dipende anche da cosa, ecco, questo potrebbe essere un fattore che dà all'ecomusio quel fattore di autosostenibilità che ti smarca dalle amministrazioni, dal finanziamento, cioè riesci a camminare sulle tue gambe, altrimenti diventa sempre, hai bisogno di una mammella a cui attingere, però questo è anche pericoloso, perché questo potrebbe crearti un legame nel tempo che non ti fa fare le cose che vorresti fare, perché tu devi sempre poi ringraziare qualcuno, bene? Ad esempio, la sede dell'ecomusio di Neviano è una sede che ci è stata data per fortuna in comune di Neviano, però sei sempre legato al comune di Neviano per dire guarda c'è da fare la manutenzione del verde, devi tagliare l'erba, tutto quanto, è chiaro che il comune se si interessa te lo fa, però se è un po' staccato da questa realtà te la lascia, tutto quanto, te ti penalizza, ma se tu avessi risorse tue proprie te la taglieresti tu la cosa, saresti autosufficiente e quindi devi sempre in qualche modo essere subalterno a qualcosa, però ti sto raccontando la realtà bugliese, probabilmente la realtà del nord hanno il segretario, hanno il custode del posto, ma sono persone renumerate, c'è il comitato scientifico, c'è il professore che viene pagato. Comunque non mancano, però che potrebbe essere, c'è il lavoro negli anni che dico al nord. L'esempio del nord è pure, cioè è una banalità, però appunto proprio perché non si ha nulla da invidiare rispetto ad altre realtà, per niente, quindi i team scientifici che si occupano di queste cose, la potenziale collaborazione con le università perché si formano ad hoc delle professionalità, poi si può, proprio perché adesso diciamo, uso una terminologia un po' a me antipatica, la Puglia sta diventando un brand, comunque è una regione ricca, non ha nulla da invidiare, deve solamente appunto man mano riuscire a scardinare, perché poi ci sono delle necessità, perché se il turista che ti viene o comunque la classe che ti viene, anche locale, ha delle necessità che non vengono mai fuori, se no magari un po' gliele le devi mettere allo specchio, non vedi che hai bisogno di questa cosa, quindi aiutiamoci a fare questa cosa, perché potenzialmente non manca nulla in realtà. Sì, potenzialmente chi viene dall'esterno è già abituato, però c'è un altro rispetto, nel senso anche noi stessi siamo un po' disabituati a dare un corrispettivo per una prestazione, no? Cioè noi oggi, c'è questa forma qua che tutto ci deve essere dovuto, gratuito e tutto il resto. Cioè chi viene da altri paesi, da altre regioni, già è diverso, nel senso che ovunque vai sai che devi lasciare qualcosa, no? Per un servizio, se devi entrare in un museo, se devi soffrire di un servizio, quant'altro. Cioè quindi, anzi, quando vengono qua e gli dici che è una cosa gratuita, gli rimangono pure spiazzati, come per dire, no, è grasso che gola qua, no? Come funziona? Cioè, allora, proprio perché noi stessi siamo abituati un po' a questo concetto che è tutto, ungimi tutto, è tutto gratis, non, cioè, perché fondamentalmente non abbiamo neanche la capacità di riconoscere noi stessi, no? Cioè se fossimo un attimino, no, pretendessimo un pochettino di riconoscimento forse. Sì, 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 anche questo. Ma neanche una capacità di investire, il commerciante stesso, il ristoratore, non riesce a capire che se tu stai portando su un territorio, attraverso un'attività, un tos di persone, invece dovrebbe essere lui, no? Forse, no? A darti una mano e dire, guardate, questo tipo di collaborazione è un po' tutta da costruire, non è impossibile, ma è tutto da costruire. Allora, è quello che si fa anche a rete sul territorio, non è le cose o un'associazione X, è qualcosa che mette tutti, no? Attorno a un tavolo per costruire anche possibilità. Però bisogna che ognuno dia il proprio contributo, io ci posso mettere del tempo, le competenze, no? La sapienza, tu ci devi mettere qualcos'altro. Dicevi? No, ti ho bloccato. Io sono convinto che, e poi voglio dire, è un'esperienza come tante altre, però siccome è fatta dalle popolazioni, per le popolazioni, proprio residente, ha dei caratteri, diciamo, anche un po' più originali, no? Non è una cosa, è una forma, diciamo, di autoprodotta, di autoriconoscimento, qualcosa che deve nascere spontaneamente all'interno delle persone. E quando le persone riusciranno a capire, a comprendere meglio le potenzialità, perché questa è anche un'esperienza che ti fa capire di più quali sono le tue potenzialità, forse non tutti conoscono, non conoscendo il proprio territorio, non conoscono neanche la bellezza, l'originalità, l'unicità del posto dove vivono. Come fai a costruire, no? promozione, turismo, se prima di tutto tu non proponi. Poi andiamo in Toscana e quando andiamo per le strade, per i vicoli, ci stupiamo del fatto che la gente ti ferma, oppure ti guarda così attonita, ti ferma e dice, ma sai che questo qua è un castello e ti comincia a raccontare la storia. Io me l'immagino così, l'ecomuseo che forma sul territorio cittadini curiosi, cittadini che si sanno mettere a disposizione, cittadini acculturati, conoscitori del proprio territorio, perché non è possibile che nessuno di noi, cioè per dire, prima di venire qua ho chiesto a una ragazza, cioè la strada, non sapevo la strada dove stava lei, cioè era del posto, la strada che stava percorrendo e la strada, mi indicava la strada, cioè è spaventoso che si abiti in un posto e non si conoscano neanche le strade. Ora non dico che bisogna essere un vigilo urbano che le sa a memoria, però almeno orientarsi nel proprio territorio e guarda che ci sono di queste realtà, cioè la gente non conosce il posto dove vive, non dico la città, le contrade, un lavoro interessantissimo è stato quello di censimento dei toponimi, ogni paese ha le contrade che si chiamano in un certo modo, ma sapete quante storie ci sono dietro quel nome? Perché magari è successo un fatto particolare, perché in quel posto c'era un proprietario, allora intanto conosci meglio il territorio, quando si parla di una zona sai dov'è, ma poi c'è una cultura dietro, una storia, non è così, la gente veramente sembra che vive in un... e molte di quelle passeggiate che si fanno non... ma interne, a Galatone, è uscita fuori un'esigenza proprio del laboratorio stesso, che c'erano due persone che... e loro hanno detto, scusate, forse noi non conosciamo il nostro territorio, la domenica, perché era il giorno in cui queste persone erano più disponibili, per far conoscere a quelli del posto il proprio territorio, ma anche agli esterni, cioè, proprio, cioè due strade si conoscono, quello che ti porta da casa tua a scuola, da casa al posto di lavoro e basta. Cioè, perdi tutta una serie di informazioni, di cose sul territorio che vanno per forza recuperate. Ce la possiamo fare? Ci sono altre... Avete visto i quaderni? Io non faccio i testi. Vabbè, tu sei un tecnico, potresti pure dare un... No, per esempio, dal punto di... No, per esempio, dal punto di vista... Ora te la faccio io una domanda, una domanda. Ma dal punto di vista grafico, voglio dire, c'è ancora da migliorare parecchio, no? Cioè, hai visto, magari hai fatto vedere anche delle... Che cosa suggerisci, no? Su che cosa puntare, sull'impostazione, l'impaginazione. Sull'impaginazione, piuttosto che sui contenuti. Cioè, voi fate un discorso molto importante sul linguaggio, no? Cioè, tu hai detto, no, a parte gli itinerari, ma vogliamo anche fare le mappe che siano molto semplici, molto... Che comunichino qualcosa direttamente attraverso, ne so, icone, piuttosto che tratti del... Cioè... Le mappe, secondo il mio modesto parere, devono rimanere così come sono perché è la loro natura, no? Fatta da... dal basso. Sicuramente ci sono elementi... Per esempio, questi quaderni che io già conoscevo potrebbero essere più snelliti dal punto di vista testuale. Diventano di più facile lettura, nel senso che una persona che si vuole avvicinare a questo mondo o che semplicemente vuole conoscere che cosa fa l'eco-museo di quel comune, di quel posto, magari si trova di fronte a questi testi molto corposi, per carità, che contengono informazioni utili, ma che spesso poi all'utente, tra virgolette, che sta fuori da quel mondo non gli viene da leggere. Ecco, però mi rendo conto che è anche un lavoro molto difficile da fare. Presuppone anche... Perché chi lavora in questo ambito deve trasferire a chi scrive concetti, idee, descrizioni e tanto altro. Considera che questi sono pure lavori fatti molto in casa, artigianalmente. No, no, ma io sono d'accordo con te. Cioè, una persona, ma anche dal carattere stesso del testo, poi dalla grandezza. Qua siamo già con due grandezze differenze, insomma, danno un po' fastidio. In effetti ci vorrebbe un'opera di sintesi, che è difficile. Cioè, presuppone che ci sia una competenza, una persona altra che si prenda la briga di fare questa cosa. Però, sì, in effetti, come dici tu, le mappe devono conservare questo carattere un po' di... molto amatoriale, molto... Altrimenti non si perde il senso dell'ecomuseo che c'è, no? Secondo me non è la... Forse bisognerebbe più utilizzare strumenti nuovi, le applicazioni, le cose, queste cose. Potenziare di più l'aspetto che è presente sul web. Ad esempio, una cosa che stiamo cercando di fare è quello di realizzare delle audioguide. Anche questa è una cosa un po' vetusta, diciamo, no? Cioè, ormai non hai più bisogno dell'affarino, quella cuffietta. È una mappa con i punti sul territorio, con il numerino e una registrazione audio. È una cosa che potrebbe essere fatta benissimo con una semplice applicazione, qualcosa su... Però, cioè, come vedi, questo presuppone anche che ci sia qualcuno che programmi, però questo significa avere competenze che poi devono essere in qualche modo anche gratificate, diciamo così. Se non hai di queste risorse, poi ti devi accontentare di questo strumento, che è già tanta roba, eh? Eh, però è un po' più... Ci mancherebbe, no, no. È un po'... Vedi, queste, le mappe di comunità di... Dove sono? Queste qua, non le ho viste, però presuppongo che ci sia qualche... Sì, qua ci sono delle... Ci sono i loghetti dell'app, quindi vuol dire che c'è qualche strumento che è stato su... Che non so... Sinceramente la prima... Non lo sapevo. Infatti, curiosi erano nell'Apple Store di queste cose. No, comunque, in generale sarebbe bello lavorare in rete, perché queste iniziative non devono essere isolate tra chi con il territorio ci lavora, insomma. Sì, questo è stato anche... E trovare anche gratificazione economica da attività in proprio. Nel senso che ci si mette insieme e si fanno delle cose che portano anche profitto. Beh, sarebbe da sperimentare... La parola profitto, delle volte, sembra essere... Ma non è una cosa... Ma non è una cosa... Ma non è una cosa normale. Però è respingente nei confronti di tutte quelle persone che su... Sembiamo sempre tanti idealisti, no, su questi temi. Sai, no, il paesaggio, la cosa, quindi bisogna vivere con le pezze davanti, no? Cioè, non è così, voglio dire. Si può fare cura del paesaggio, tutela, sensibilizzazione, ma utilizzando strumenti anche all'avanguardia, non... O creare o praticare, anzi, dei cambiamenti. Penso, no, a tutto il sistema di... No, a tutti i gruppi di acquisto solidale che potrebbero essere, no, qualcosa che in un ecomuseo ci può stare e fare delle convenzioni con l'agricoltore per poter fare quei scambi a chilometro zero, il mercatino. Sono tutte le cose che gli ecomusei fanno, eh. Cioè, si fanno in maniera anche egregia per creare quella piccola economia nel paese oppure forme di autofinanziamento. Il limite è stato proprio questo al momento, quello di non aver capito che per sostenersi non bisogna sempre cercare l'incentivo alla cosa, ma cercare di rimboccarsi le maniche e aguzzare l'ingegno per crearsi da soli le proprie opportunità. Si può fare, perché... Però ci vuole una grande dose di creatività, sicuramente, perché parlo delle mie esperienze, i membri delle cose non sono, diciamo, così avanti, però questi della Valle Tiria sicuramente sono più avanti. Poi, sì, anche, diciamo, la stampa di queste cose non è molto appetibile. Noi abbiamo... ereditato, come dire, un layout, li abbiamo uniformati per tutti gli ecomusei. Giustamente. Anche la stampa, la cosa, cinque anni fa poteva avere un costo, adesso con potenti mezzi di internet puoi avere delle stampe sicuramente, allo stesso prezzo puoi avere, diciamo, un prodotto anche soltanto a colori, per dire, no? Cioè, che già... Poi si evolve, però... è interessante perché, insomma, le cose che fate voi sono abbastanza belle dal punto di vista grafico e sicuramente molto più sedugenti, però forse si può creare anche questa forma di collaborazione. Tutto a me, io non l'ho detto a caso. Non è un laboratorio che è sempre visto. Sicuramente. Ma il laboratorio, questa iniziativa del laboratorio del Bassev è proprio a collegare esigenze, gruppi, metterli in rete perché l'essenza è quella, la sinergia è la cosa più importante in questo momento. Da soli... No, no. Da soli si fa fatica, prima di tutto. Si fa tanta fatica. Tanta fatica e poi, secondo me, è lo scambio che produce anche cose belle. Cioè, forse, l'occasione dei laboratori dal basso, alcune occasioni in cui ci si può confrontare, è bello proprio per questo perché facciamo tante cose in Puglia, in Salento, però poi non le conosciamo. Esatto. Oppure le conosciamo soltanto attraverso i social network, quindi mettiamo il mi piace le cose, però non le conosciamo direttamente. Cioè, queste sono anche occasioni in cui veramente intanto ci conosciamo di persone e poi si stringono anche, no, delle collaborazioni. Dovremmo avere più occasioni come queste per poter interagire. Noi, in qualche modo, con la vostra struttura già ci siamo relazionati, ci conosciamo, insomma, abbiamo... Ecco, nella fase di implementazione di quel sito internet sicuramente avremo da lavorare parecchio perché, insomma, adesso non possiamo più immaginare un sito così molto macchinoso, clicca, clicca, clicca per entrare a trovare una cosa. Deve essere molto più diretto, più immagini... Vabbè, cambia anche, no? Quel sito aveva un perché, un suo perché tanti anni fa, adesso non lo va più. Il sito è, tra virgolette, molto vecchio. Sì. Parliamo di Ecomuseipuglia.net, diciamo. Sì, sì, le prime forme di sito. però, anche l'esperienza, ad esempio, fatta da Rino Carluccio, questa modalità di intervenire, cioè, forse è una generale proprio in mezzo alle persone, no? Questa invece è una mediata da internet, questa cosa, che un po' abbiamo cercato di sperimentarla per le mappe, però, senza ricevere molte informazioni, perché, all'epoca, quando abbiamo fatto queste cose, ancora internet non era così massificato, adesso ce l'hai sul telefonino, ma prima devi mettere davanti al computer, di iscriverti, interagire, tutto l'altro. Poi, il tipo di persone che veniva a frequentare, persone, magari adulte, con più difficoltà a manipolare questi strumenti, per cui era molto più facile, però, è interessante anche quell'aspetto, tu, da qualsiasi punto del mondo, puoi intervenire nella discussione, dare il tuo contributo, sono tutte forme che in qualche modo sono complementari, no? L'ambito social è uno strumento che in questo momento non si può sottovalutare, anzi, ha delle potenzialità enormi, che, forse anche il job blogging forse potrebbe essere Ma addirittura io, ecco, sono ignorante in materia, ma su Google si potrebbe anche interagire su, vedete, si può mettere le icone, i punti di riferimento, puoi anche farlo… Dico una banalità che mi ha colpito tantissimo, ed è banale, presa da sola, la prima lezione che noi abbiamo fatto con il laboratorio dal basso con il professor Maragliano dell'Università di Roma, che lui ci ha fatto vedere una nuova funzionalità di Google che io non conoscevo, è anche vero che era nata, è nata da qualche mese, forse da febbraio, ed è una cosa secondo me molto bella, che è quella che grazie allo sviluppo degli smartphone che ognuno ormai noi ha, la possibilità di fare le fotografie a 360 gradi e di pubblicarle su Google le quali poi vengono geolocalizzate sulle mappe e nel momento in cui l'utente utilizza Google Maps piuttosto che Google Earth individua attraverso delle icone che Google inserisce la presenza di foto sferiche si chiamano così ed è una cosa molto bella perché noi abbiamo la possibilità di fare con lo smartphone un'applicazione gratuita una fotografia che gira intorno a noi e di pubblicarla e quindi di far vedere in quel momento il turista o l'autotono che cosa sta guardando in quel momento e che cosa può far guardare magari che ne so un tramonto piuttosto che un evento meteorologico un evento un ambiente che in quel momento per lui è interessante questo preso da solo ovviamente è una banalità però all'interno di un contesto di promozione del territorio cura del territorio conoscenza del territorio possono essere tanti piccoli strumenti messi insieme che creano appunto quella rete di contatti quella rete di informazioni che contribuiscono molto ma la cosa che mi sono sempre chiesto questi strumenti sono padroneggiabili da tutti nel senso che comunque è una cosa facilmente perché alle volte parliamo anche forse ormai sì come hai detto ormai sì però forse c'era una procedura un po' macchinosa che poi magari ti fa anche paura tu vorresti fare interagire però è talmente lunga la cosa che perdi la pazienza ciao io lo specifico questa cosa qui l'ho provata ed è assolutamente semplice semplice basta girare con uno smartphone e fare la foto schiacciare un pulsante e condividi la tua la tua fotografia però ripeto questi sono strumenti a monte ci deve essere un progetto certo se è fine a se stessa giusto perché so qua non serve a niente costruita una cornice non so perché tanti elementi che servono a far è chiaro che ci tengo a dire la foto sferica non deve sostituire la visita da parte di un autoctono di un turista di un posto perché la visita nel posto suscita non solo piacere visivo ma questa è un'altra riflessione che faccio spesso nel senso che si stanno moltiplicando su internet social network cose gruppi in cui nel momento in cui accade una cosa c'è quello che fotografa mette il video mette la cosa nel momento alle volte io penso che questo sia anche un pochettino come dire controproducente perché ti toglie la bellezza della scoperta di andarlo a vivere tu quell'evento no? o no? cioè perché immediatamente su una che ne so la fotografia di una processione ci sono mille mi piace vuol dire che mille persone stanno a casa o probabilmente sono in giro e non stanno alla processione no? quindi non la stanno vivendo l'evento cioè è anche una cosa alle volte un po' che adesso tutto qualsiasi cosa è no? è documentabile sto facendo questo sto facendo questo sta accadendo questa cosa qua però non la stai vivendo ti racconto un episodio che ci è capitato no non è che ci è capitato noi qualche anno fa abbiamo partecipato a un bando per la realizzazione di un sito web che raccontasse che serviva anche come se uno strumento di servizio ai musei in rete della provincia noi abbiamo fatto una proposta progettuale che aveva questo obiettivo immettere curiosità nell'utente per far sì che l'utente andasse dentro il museo purtroppo non abbiamo non ci siamo aggiudicati il bando ed è stato aggiudicato il bando a un'altra azienda la quale ha privilegiato molto invece le ricostruzioni tridimensionali delle stanze dei musei e vabbè ma questo però attenzione ti parlo di 4-5 anni fa forse adesso è cambiato qualcosa però molto spesso il fascino della tecnologia il tridimensionale ci fa perdere il contatto con la realtà quindi l'uso quello che voglio dire è l'uso dell'alta tecnologia deve essere deve avere un senso cioè deve servire a far cioè se il motivo è quello di far venire la gente nel museo non mi puoi far vedere a 360 gradi l'ambiente che poi ritrovo mi toglie tutta la curiosità non ha senso e poi anche una questione di economia di perché perché se il turista viene in questo museo a vedere quel reperto verrà nel museo pagherà il biglietto si prenderà il caffè in un bar oppure visiterà andrà a mangiare in un ristorante oppure andrà da un'altra parte cioè è tutto un insieme di elementi che con piccole attenzioni può vedere soltanto dobbiamo salvare il mondo però l'incentivo l'input a poter fare l'unione fa la forza anche se è una frase banale però oggi ancora di più penso sia forte questa questa esigenza questa esigenza di lavorare insieme di fare rete tantissimo soprattutto quando si incontrano delle esigenze comuni delle delle passioni comuni e delle conoscenze comuni noi siamo aperti a qualunque a disposizione e noi siamo ben contenti noi abbiamo bisogno ecco il limite che vi ho sottolineato è proprio questo di riuscire a essere anche al passo quei tempi perché il conto è fare questa esperienza questa formalizzazione che deve rimanere comunque di questo tipo però c'è tutto da comunicare all'esterno c'è tutto da interagire non possiamo rimanere allo stato ancora elementare abbiamo bisogno di questa di svecchiare sì sì cosa si sta facendo perché altrimenti non rimane una cosa che capita ci sono capitato l'ho vissuta l'ho vista poi basta esatto non fa va bene se non ci sono domande potremmo anche non so se tu vuoi qualcosa io ho raccontato quell'esperienza insomma non aveva i caratteri di una lezione ma quanto di un racconto di un racconto sicuramente diciamo però il racconto di esperienze dal nostro piccolo ma questo sì sicuramente io già ho acquistato un'altra informazione oggi questo spazio bellissimo che non conoscevo quindi è stato già un elemento per me molto costruttivo poi persone che conoscevo persone che non conoscevo l'idea di rimanere ancora in contatto tanto stiamo parlando della stessa cosa visto anche gli interventi precedenti cioè il tema è quello e quindi siccome ci lavoriamo un po' tutti ognuno per le sue competenze bravi voi che avete ideato questa cosa io l'ho fatto magari acquistando i libri i testi le cose c'è tutto magari una bibliografia che magari poi vi impasso anche dei testi anche belle la narrativa cosa sì sì la bibliografia che può essere interessante però la bibliografia è qualcosa che rimane sulla carta l'esperienza è qualcosa che fai concretamente no e quindi bravi voi per aver pensato a questo tema grazie a voi dovete fare la chiusura no ci vediamo lunedì sì lunedì ci vediamo a Taranto con con Mafia dei Paggis Filippo Pretolani ecco il cognome sì ci vediamo non sarà nella sede di Ceglie ma sarà a Taranto quindi lunedì lunedì non c'è streaming però avremo solo magari live tweet live blogging quindi faremo ah e sarà l'evento è stato spostato presso la scuola di Ballenti Spiriti a Taranto officine no scuola Fatù il ristorante Fatù comunque è stato spostato in altra sede nonché la sede della scuola di Ballenti Spiriti e niente ci sono tutte le informazioni sul sito non c'è tutto ma sul sito non c'è non c'è l'evento non c'è l'evento non c'è l'evento di non c'è l'evento